Una buona notizia arriva in queste ore di tempo, o meglio arriva ieri, 13 maggio 2022, in quella della regione Lombardia, a proposito di Attilio Fontana, il quale viene ad essere prosciolto da ogni accusa per il cosiddetto caso Camici, con altre quattro persone che sarebbero, diciamo così, coinvolte, state coinvolte. Il GUP, il giudice per le indagazioni per eliminare, avrebbe desabilito che il fatto non sussiste. Dunque, finalmente, si mette, si pone la parola fine ad una situazione di cui non voglio parlarvi, di cui non voglio entrare nel merito, perché non voglio reddere la privacy di Attilio Fontana, però finalmente, insomma, è stato prosciolto da ogni accusa, da ogni addebito. Questo video di oggi termina qua, questo video non vuole, ripeto, sottolineo, non vuole ledere la privacy di Attilio Fontana e di altre persone, ma intende solo informare eventuali esseri umani del fatto che Fontana viene ad essere prosciolto da ogni tipo di accusa, di ogni tipo di addebito. Dal vostro narrato italiano è tutto, iscrivetevi, commentate e commentate a Fontana. Ciao a tutti.